salve a tutti ragazzi qui ritrovate nel nostro canale io sono il boss procediamo nella divisione 7 siamo 4 punti andiamo incontrare il nostro prossimo avversario vediamo vediamo dire simulare un fottino di punti voglio vincere tutte e due ce la devo fare porca puttana il nostro avversario una inglese una inglese non male come squadra non male non male c'è quello che credo sia musa che non c'era un cazzo con tutta la squadra però giustamente cominciamo molto male nooo porca troia era bella poteva anche stoppare però era troppo bella Erman Erman 1 a 0 porca puttana una volta che riuscivo a fare un passaggio giusto andiamo anche il gol se i miei riuscissero a stare con un cazzo di passaggio porca troia si stanno sbagliando tutti i passaggi del mondo l'unico passaggio che farà giusto gol ma non ho un po' tutto dai ma porca troia qui nel primo tempo siamo avanti di 1 a 0 gol di Erman speriamo che i nostri giocatori decinano di fare passaggi decenti in modo da arrivare almeno in porta porca puttana dai dobbiamo riuscire a raddoppiare dobbiamo andare su sicuro e basta quel portiere che viene sempre fuori yes doppietta di Erman doppietta di Erman no no ho cambiato idea fai venire pure fuori il portiere fallo venire fuori che cosa ha fatto il portiere suo poi terrorizzato da un pallone ok ma oh perchè a sti piedi Ramos voglio obey my young render den cazzo oh finisce la prima partita 2 a 0 guardiamo i nostri tre punti giornalieri sulla prima partita tante occasioni anche perse ma sono contento i risultati andiamo alla prossima partita procediamo con la seconda partita dai che riusciamo a trovare l'avversario un po' debole dai uno che in divisione 7 qua ci è per caso ti prego vediamo che squadra ha lui Bundesliga anche lui Mario Gozze Hazard eh non è così male siamo più forti noi teoria cosa fa l'altro che si pita da solo puttana e va fine primo tempo zero emozioni a parte l'emozione sua ma niente di che porca troia toi porca puttana di pal di merda ma vaffanculo porca troia con deviazione vaffanculo cazzo e se ci tira una zittola porca troia porca troia che culata che mi ha mollato porca troia ha buttato giù la traversa sti cazzi no ma dai ci sono rimasto male per una volta che la prendo i test ma dai ma porca troia finisce qui la partita zero zero peccato perché alcune opportunità ci sono state ci sono state ma un po' di sfortuna ha attaccato bene anche lui comunque era parecchio equilibrata come partita siamo in zona salvezza adesso abbiamo 8 punti quindi siamo salvi non in zona salvezza siamo salvi per questo episodio è tutto ragazzi vi invito a lasciare un mi piace un commento a iscrivervi al nostro canale ovviamente di seguirci anche su Facebook che viene sempre giornata ogni volta che viene pubblicato un nuovo video oltre al fatto che una volta iscriviti al canale potete attivare la campanella che vi avverete ogni volta che un video da noi viene pubblicato io vi saluto ma a parte dei boss è tutto ci vediamo nel prossimo episodio ciao ragazzi ciao